Nel libro L'amicizia, scritto dal filosofo Silvano Petrosino, si legge C'è un sentimento fondamentale che vivifica l'autentica amicizia. Esso riguarda non questo o quest'altro aspetto del rapporto, ma la reale manifestazione di una più ampia e sorprendente unione. Perché lui, perché lei è amica mia? Proprio perché è lui, proprio perché è lei. Questo dice tanto dell'unicità delle nostre relazioni. Nelle nostre relazioni di bene, di affetto, di amore, alla domanda perché lui, perché lei, verrebbe da rispondere solo ed esclusivamente perché è lui e perché è lei. Unicità, una bellissima parola, una bellissima espressione che caratterizza molto anche la nostra relazione con il Maestro, perché Gesù da sempre ha saputo porre uno sguardo sull'unicità di ciascuno e di ciascuna. Ha saputo sempre vedere, sollecitare, far esprimere un contributo unico, uno sguardo unico, una presenza unica nella vita proprio a partire da quel guardare e da quel muovere uno sguardo sull'unicità. Bene, qua ci sono gli apostoli che vengono inviati, Gesù da sempre ha sostenuto la partecipazione, il coinvolgimento, la corresponsabilità dei suoi, ma questo coinvolgimento ha sempre avuto il tratto del rispetto dell'unicità, del saper cogliere l'unicità. Viene allora spontaneo cercare di indagare un attimo sull'unicità di Barnaba, questo apostolo di cui oggi noi facciamo memoria. È una figura bellissima, talmente bella che ha ispirato questi famosi gruppi Barnaba che hanno lavorato e stanno lavorando sulla sinodalità. Figlio dell'esortazione è il suo nome. Barnaba è colui che ha saputo esortare, cioè esortare come dare coraggio, saper riconoscere ciò che è di buono e di bello. C'è appunto nell'unicità di ogni persona ma anche di ogni esperienza, di ogni tentativo di bene. Esortare non ha niente a che fare con comandare. Esortare è dare coraggio, è riconoscere, è valorizzare. Ha a che fare con l'azione dello spirito. Barnaba è colui che ha saputo vedere la grazia all'opera prima ancora di saper scorgere quello che non andava o che andava migliorato. Beh insomma Barnaba forse è proprio l'apostolo che tutti vorremmo avere accanto, anche le nostre comunità. e anche le nostre comunità.